Ciao amiche e ciao amici, come dimenticarsi chi ci ha tradito o tradita e facendolo o facendola rosicare? Questo video per rispondere all'amica Veronique di Napoli che mi segue su YouTube. Dunque, ora, per dimenticarti qualcuno che ti ha tradito intanto bisogna fare un po' di chiarezza. Il tradimento è una cosa che può succedere, il tradimento fisico, quindi bisogna in quel caso lì decidere se si è disposti intanto, dipende come si comporta anche l'altro, se si è disposti a perdonare e a riprendere la relazione oppure se si vuole chiudere la relazione. Certo che se dall'altra parte abbiamo un traditore o una traditrice seriale o uno che, insomma, o una che cerca di farti le corna in tutti i modi, è molto meglio chiudere la relazione a meno che non vuoi vivere una relazione libera, una relazione aperta. Quindi questo è il primo punto che devi chiederti. Poi se lui ti ha tradita, ad esempio, e tu non accetti questo tradimento, ma resti nell'impasse in cui non vuoi, cioè non riesci a dimenticartelo, vuoi lasciarlo ma non riesci a dimenticartelo, allora bisogna mettere in atto alcune strategie mentali. Poi potrebbe anche verificarsi il caso che lui ti ha tradito e va direttamente con un'altra per cui tu sarei disposto ad accettare il tradimento, ma questo proprio di te non vuoi saperne, questa è ancora un'altra situazione, ma che comunque sono abbastanza assimilabili. Allora, intanto non si può dimenticare una persona, perché nel momento in cui un qualcuno o un qualcosa entra nella tua mente, nella tua vita, non te lo puoi dimenticare. Forse anche per, diciamo, una relazione anche breve, resta comunque sempre qualcosa dentro. Magari, diciamo, non ci pensi, perché non è che pensiamo a tutte le cose che ci sono capitate, a tutte le relazioni o anche le situazioni che ci sono capitate. Però in qualche cassetto della nostra mente c'è. L'importante appunto è che non venga sempre, non diventi un pensiero ossessivo, cioè ci pensiamo sempre, e un pensiero che ci genera sofferenza. La sofferenza si manifesta quando? Quando desidero qualcosa e non posso averlo. Oppure quando mi sento, come dire, colpito nell'orgoglio, oppure colpito nel, so, mi sento tradito, mi sento ferito, eccetera. Per cui noi dobbiamo riuscire a eliminare questa cosa, questo pensiero. Ma siccome non possiamo non pensare qualche cosa, dobbiamo lasciare che il pensiero ci attraversi e proprio un esercizio di meditazione. Io non so dei miei pensieri, questo pensiero mi attraversa, ma lo lascio andare. Io recepisco che, che ne so, Giovanna mi attraversa, ma Giovanna non è un mio pensiero e lo lascio andare. Quindi un lavoro meditativo di questo genere aiuta a liberarsi dell'ossessività del pensiero. Perché nel momento in cui viene fuori il pensiero, automaticamente lo lascio andare. Quindi dopo un po' di tempo la nostra mente fa tutto questo in automatico. Per cui il pensiero si manifesta e se ne va, si manifesta e se ne va. Quindi non resta lì stagnante. Questo è un lavoro che dobbiamo farlo autoinducendoci uno stato di rilassamento abbastanza profondo ed è un esercizio molto utile. Poi è anche importante, diciamo, invece concentrarci su qualcos'altro. Per cui trovare un altro obiettivo su cui concentrare i nostri pensieri. E questa è una tecnica che funziona sempre, proprio perché la nostra mente funziona in ogni caso nella nostra vita. Se tu hai male, per dire, ti fa male un piede, per dire, prendi un martello e ti dai una martellata sulla mano che ti fa molto più male del piede, automaticamente il male del piede sparisce. Senti un male bestiale alla mano, ma il piede non ti fa più male. Quindi vuol dire che non lo senti più. Cioè non è che non ti fa più male, non lo senti più. E come dire, se in una sala c'è uno che canta e a un certo punto iniziano i martelli pneumatici ad essere azionati, non è che quello smette di cantare, ma inizia a sentire il rumore più forte, il martello pneumatico. Quello che canta non lo senti più. Quindi è importante coinvolgersi su qualcos'altro, che può essere un'altra persona, ma può essere anche un'idea, una cosa, una situazione. Quindi comunque generare, direzionare la nostra mente su qualcos'altro. E se vuoi farlo rosicare, questo, devi dimostrare l'indifferenza. Cioè non è che devi intanto mettergli degli antagonisti, come dire, un grande Cesare che già mi sono dimenticato di te. Pensa te, mi hai fatto le corna, oppure mi hai fatto un piacere, perché se non mi avessi fatto le corna non avrei conosciuto quell'altro, che è un grande Cesare al tuo cospetto. Per cui però, quindi io nei tuoi confronti manifesto indifferenza. Perché nel momento in cui manifesto rabbia, l'altra persona non rosica. Nel momento in cui, perché la rabbia è comunque sempre un sentimento, un legame, anzi di genero orgoglio. Nel momento in cui li corro dietro, diventa, esalto il suo narcisismo. Nel momento in cui invece li manifesto indifferenza e inizia a rosicare. Perché inizia a pensare, ma guarda te, stavo con questa qua, o stavo con questo qua, e gli affegga più niente di me. Vuol dire che forse non ero così importante, inizia a farsi dei pensieri, inizia a dire, beh, forse qua, forse là, inizia a rosicare fondamentalmente. Quindi, l'indifferenza che vuol dire, boh, ti vedo, ti saluto, sorrido, sono allegro, ti parlo di, che ne so, di qualche cosa, ti chiedo come va con il nuovo partner, hai fatto proprio bene, per te la scelta giusta, come dire, fa schifo, ma per te va bene. Però, detto così, diciamo amichevolmente. Quindi questo è il modo con cui gestire queste situazioni. Bene, per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. In più, se questo video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!